Un'emozione lunga quattro ore dal tramonto alla tiepida notte con molte stelle e poche nuvole di fronte al Palazzo Reale Illuminato. La cena dei 400, organizzata da Confcommercio Palermo per festeggiare i suoi 80 anni, ha rappresentato una meravigliosa cartolina partita da uno dei luoghi più iconici della città, simbolo dell'itinerario arabo-normanno e prima tappa del percorso del carro di Santa Rosalia, patronella città, a cui Confcommercio, già nel titolo dell'evento, ha dedicato un devoto omaggio nell'anno del 400esimo festino. Una lunga tavolata di circa 130 metri accolti e 400 invitati in un'atmosfera affascinante e conviviale, dove la tavola e il cibo hanno rappresentato gli elementi aggreganti della storia, delle tradizioni, dei saperi e dei sapori. Quattro chef stellati della provincia di Palermo, Toni Lococco, Giuseppe Costa, Nino Ferredi e Carmelo Trentacosti, sono stati chiamati ad interpretare, con la loro sapiente creatività, i tanti prodotti dell'enogastronomia del territorio siciliano. Ma è stata magica perché per i nostri 80 anni, gli 80 anni di Confcommercio, gli imprenditori e le imprenditrici di questa città hanno dimostrato che si può valorizzare la nostra città, quindi senza mettere la polvere sotto il tappeto, ma semplicemente facendo in modo che venga valorizzata la nostra bellezza, la nostra arte, i nostri migliori monumenti, con anche le competenze, le capacità, l'eccellenza della nostra enogastronomia, di chi sa organizzare, di chi sa rendere esattamente questa bellezza qualcosa di concreto e di suggestivo. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, grazie alla nostra città che ancora una volta dimostra di essere bellissima e di non essere forse troppo valorizzata molto spesso.